Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via libera alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Nell'ultima seduta di giugno il Consiglio regionale ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di risorse per l'anno in corso di quasi 40 milioni di euro. Due, i settori che beneficeranno maggiormente della manovra, la cultura a cui arriverà un'iniezione da 10 milioni di euro e le bonifiche ambientali, incluse quelle previste nell'area Sinsir di Massa Carrara. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CHEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sinsir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i due milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Le ragioni del sì della maggioranza? Ma Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno, la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Dai banchi dell'opposizione è arrivato invece un no secco alla variazione. Allora questa era presentata come una variazione di bilancio di poca valenza, piccola, in realtà non sposta grandi patrimoni. Però ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere, che è la prima il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli d'Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la Toscana è la regione italiana che cresce meno. È l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia. Tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019 e la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Secondo il Movimento 5 Stelle la manovra non corrisponde alle reali esigenze dei cittadini. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la regione toscana, più volte l'abbiamo denunciato, non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La regione toscana, sia per le famiglie che per le imprese, non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché il riordino non se ne può parlare, che prevederà dei piedaggi in futuro sulla FIPILI, che prevederà che FIDI Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti, penso alle termine di Montecatini, che invece le attendono da tempo. Quindi fondamentalmente è una tempesta in un bicchier d'acqua con veramente degli interventi piccoli legati a quella situazione locale o all'altra, legati a interventi ad personam o ad comunem fondamentalmente. Anche la Lega ha votato contro, puntando il dito sulla gestione delle partecipate. Sì, sicuramente vi inizierei la parte delle partecipate. C'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo, che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà FIDI Toscana, perché la regione toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici, però ci risulta che ci sia un'altra regione che partecipe delle quote, che è la regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. E una seconda battaglia che abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare è quella delle bonifiche del SIN-SIR di massa, su cui anche qualcuno ha scritto che la Lega non era favorevole. Ecco, ci tengo a chiarire che non è assolutamente così. Siamo fieri di aver votato questo articolato per quanto riguarda il SIN-SIR di massa, perché lo abbiamo chiesto a tutti i livelli, e quindi anche lì partiranno opere di bonifica di cui non possiamo che essere contenti. Una variazione che sempre secondo l'opposizione tradisce una mancanza di strategia da parte dell'amministrazione regionale. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da due anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito, perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi, e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo, perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Dobbiamo imparare dal mio modestissimo punto di vista a fare un'attività legislativa che sia organica. Se si decide che l'obiettivo strategico è sostenere le amministrazioni comunali, allora si fanno fondi strutturali finanziati in modo pluriannale che vadano a sostenere e a mettere nelle stesse condizioni comuni. Naturalmente la questione ambientale è una questione che poi si lega invece a tutt'altro, si lega anche a delle inchieste giudiziarie, si lega anche qui però a delle responsabilità politiche precise, perché quando ci si ritrova a dover intervenire con bonifiche importanti significa che sotto altri aspetti purtroppo non si è adeguatamente vigilato. Tra i temi più divisivi emersi nel corso del dibattito, quello sulle risorse per la sanità. Se dovessimo vedere quanto è necessario per la sanità oggi ci sono 126 miliardi nel Fondo Sanitario Nazionale e la cifra dovrebbe essere di circa 150 miliardi per portarci al 7% del prodotto interno lordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto deve essere a percentuale giusta. Se invece che quei 20-25 miliardi necessari ne arrivano 3 o 4, comunque tutto fa, è utile che il Ministro abbia in qualche modo raccolto il grido d'allarme della riunione che facciamo giovedì scorso in cui i governatori delle regioni all'unisono, centro-destra, centro-sinistra, all'unisono hanno detto che se vogliamo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi, pubblico e universalistico, che non fa differenze fra il povero e il ricco, le risorse lo Stato ce le deve mettere. Mi sembra sia il segnale che il Ministro abbia raccolto il grido che dalle regioni viene perché si investa un po' meno su tante altre cose che non hanno il carattere di priorità di una sanità che invece deve essere, come dice l'articolo 32, il diritto alla salute, la cosa fondamentale su cui uno Stato investe. Una versione, quella del governatore, che non convince i consiglieri della destra. Di oltre 14 miliardi di euro in più già messi nel Fondo Sanitario Nazionale, il governo Meloni cerca attraverso il Ministro Schillaci altri 3 miliardi. Ma la cosa che noi diciamo a Gianni e Bezzini, quando andate a chiedere più soldi a Roma, diteci per cosa, perché Schillaci, quando da Ministro va a chiedere più soldi al Premier Giorgia Meloni, dice per cosa li vuole, per aumentare gli stipendi dei medici, degli infermieri, degli operatori, soprattutto dei pronto soccorsi, per potenziare la rete territoriale e domiciliare. Quindi noi chiediamo a Gianni, a Bezzini, alla maggioranza, quando chiedete più soldi, per cosa li chiedete? Perché se li chiedete per aumentare gli stipendi dei medici, degli infermieri, degli ossa, dei pronto soccorsi, noi ci mettiamo la firma sotto. Se gli chiedete per aumentare i servizi territoriali e domiciliari, per evitare che le persone vadano a ricoverarsi in ospedale quando potrebbero essere curate a casa, noi ci mettiamo la firma sotto. Ma se quei soldi dovessero servire per aumentare i posti di potere che avete creato in questi anni, per creare gli oltre 2.000 primari che ci sono in Toscana, per creare un ulteriore cat, un ulteriore centro di potere all'interno della sanità toscana, ecco noi rispetto a questo siamo contrari, perché noi riteniamo che non sia sufficiente chiedere più soldi, ma sia necessario cambiare i modelli organizzativi della sanità toscana, che sono modelli sbagliati, che in questi anni sono serviti sì a alimentare e a conservare il potere della sinistra, ma non sono sicuramente serviti a dare un modello più efficace ai pazienti e ai cittadini toscani. Si terrà dal 14 al 30 luglio e coinvolgerà tutta la Val di Chiana, il cantiere internazionale d'arte di Montepulciano. Il festival diffuso, giunto all'edizione numero 48, rappresenta l'evento culturale di punta dell'intero territorio. 48 edizioni danno il senso dell'importanza della qualità di questa iniziativa. Da Montepulciano, la Val di Chiana Senese, terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza, tutto questo si tiene insieme, musica, eventi che coinvolgono le ragazze, i ragazzi più giovani, la voglia di vivere dopo questo tempo complesso della pandemia. La Toscana è terra di bellezza, è terra di libertà, e ogni qualvolta si investe in cultura, si investe in libertà. E sapere che da tante parti della nostra regione si potrà andare a gustare e a vivere quanta bellezza c'è in quel territorio, mi dice che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Un grande in bocca al lupo a tutti gli organizzatori e speriamo che tanti cittadini, tanti turisti possano visitare gli spendi di luoghi della Val di Chiana Senese. Un appuntamento importante in grado di rilanciare la fama di Montepulciano nel mondo. Nel corso di questi anni veramente c'è stata un'evoluzione tale da permettere a Montepulciano di essere conosciuta proprio nel mondo grazie al cantiere. Il cantiere che ha in particolare, in particolar modo, favorito anche la crescita economica di Montepulciano con tutte le ricadute chiaramente in termini economici nel nostro territorio, non solo Montepulciano ma tutta la Val di Chiana Senese e ha contribuito e favorito anche una crescita sociale e culturale perché sicuramente ha arricchito l'offerta culturale soprattutto rivolta in favore ai nostri residenti però anche nei confronti appunto dei turisti che scegliono Montepulciano e la Val di Chiana Senese come luogo di destinazione delle proprie vacanze. E proprio per questo credo che Montepulciano si sia anche ritagliato un ruolo importante di guida nell'organizzazione di eventi culturali grazie proprio alla presenza nel nostro territorio della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte. Un'edizione, quella di quest'anno, arricchita ed estesa a sostegno del progetto di candidatura della Val di Chiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 2026. Mi aspetto che ci sia sia la popolazione locale perché ci sono molti ragazzi impegnati nelle produzioni sia dell'orchestra sia delle opere locali sia artisti internazionali che vengono appositamente proprio per fare cultura sia i turisti che vengono a visitare questo bellissimo territorio e quindi approfittano anche degli spettacoli teatrali che sono disseminati su tutti i comuni della nostra Val di Chiana e anche incrementati quest'anno proprio in previsione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Quindi anche i comuni non partecipanti hanno degli spettacoli del cantiere. Quindi occupiamo interi spazi e luoghi anche particolari in particolare gli scavi di San Casciano per esempio, i musei, le piccole piazze, i vicoli, i cortili, quindi luoghi della cultura veramente anche particolari e interessanti anche per far riscoprire piccole opere architettoniche e posti anche un po' sconosciuti e non usuali oltre che dei grandi palcoscenici come la Piazza Grande e i teatri. Il Lars Rock Fest festegge i suoi primi dieci anni e lo fa con una tre giorni di musica e ingresso gratuito. La rassegna culturale promossa dal Consiglio regionale si terrà da venerdì 7 a domenica 9 luglio presso i giardini pubblici di Chiusi. L'Ars Rock Fest è uno tra i festival più importanti a livello toscano e il Consiglio regionale sceglie di promuovere con questa conferenza stampa un'iniziativa culturale organizzata da un'associazione del territorio fatta di giovani, un festival per i giovani e non solo che ha trovato un grande riconoscimento nella legge speciale che il Consiglio regionale ha voluto fare con l'iniziativa legislativa che appunto portò la mia firma lo scorso anno dove vide l'Ars Rock Festival essere uno dei primi festival a beneficiare di un sostegno importante della ripartenza post-Covid. Oggi viene confermata la valenza di un'iniziativa che ovviamente ormai è diventata un riferimento non soltanto regionale ma anche nazionale e internazionale per il livello di qualità degli artisti e dei professionisti che si esibiranno in questi tre giorni e questo credo che sia un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la Toscana questo è il motivo per il quale come Consiglio vogliamo promuovere sostenere e valorizzare questa iniziativa. Una festa che trasforma per l'intero weekend la città di Chiusi con appassionati in arrivo da tutta Italia. Un bellissimo fine settimana di una manifestazione rock che trasforma di fatto la nostra città sarà una bellissima edizione tra l'altro la decima che dimostra anche come le amministrazioni comunali che si sono succedute comunque hanno sempre creduto in questa attività e c'è da fare un plauso all'Associazione Jack che di fatto è l'organizzatore che ha la capacità di tenere unita tutta la nostra comunità perché poi sono più di cento ragazzi che collaboreranno di tutte le età ed è questo proprio il segnale più bello che possiamo dare. I nostri giardini pubblici si trasformeranno con questa manifestazione accoglieremo tanti ragazzi che verranno che verranno da tutta Italia e questo è un vanto anche per noi in funzione del fatto che non si perde quel collegamento anche culturale lo dice il nome stesso Lars Rock e quindi c'è questa indicazione etrusca che rafforza proprio la nostra cultura rafforza il nostro modo di essere e ovviamente come amministrazione comunale non possiamo essere che orgogliosi di tutto questo. Il prossimo sarà dunque un fine settimana di musica con otto gruppi in arrivo sul palco dei giardini pubblici ma non solo la tre giorni sarà arricchita da tanti appuntamenti collaterali dalla fiera dell'editoria indipendente agli eventi dedicati a parkour e yoga. Il Lars Rock Fest è un'esperienza totale quindi sicuramente quello che succede sopra il palco è il momento fondamentale del nostro evento sono otto le band che si susseguiranno nel palco del Lars Rock Fest otto band di cui tre headliner tra tutti And So I Watch You From Afar The Not Twist and The Brian Johnstone Massacre sono tre nomi enormi per celebrare una decima edizione fortemente voluta accanto al palco nel frattempo Open Book la fiera dell'editoria nelle sue forme indipendenti tantissime attività per giovani e meno giovani parkour, yoga, presentazioni dei libri saranno con noi anche Varagheno Maia De Leo insomma un programma tutto tondo dalle 5 del pomeriggio fino a fine concerti per accogliere tutti Per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando il link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.itoscana.it